Credo che siano cambiate molte cose, se facciamo riferimento all'Ottocento, Tostoi, quando morì ci fu una calca attorno al treno che portava alla Salma, tant'è vero che lo Zara ha detto ordine al macchinista di non fermarsi mai perché temeva che le persone salissero il treno e portassero via gli esti. Tostoi, adesso quando morirò io, si vedranno 10 persone, 12, i miei lettori, quindi credo che siano cambiate tante cose, la parola dello scrittore oggi è una parola fra le tante, perché sono cambiati proprio i meccanismi, cioè lo scrittore non è più l'unica fonte autorevole di informazione, non è l'unico che può mettere bocca sui sentimenti e sui fatti che accadono al mondo, e allora bisogna spostare l'attenzione non più sullo scrittore di stanza stretto, ma sull'intellettuale di stanza stretto, ossia su quello che produce cultura, che fa opinione. Però al mondo di oggi ciascuno, anche attraverso la rete, si sente autorizzato a essere fonte. Esatto, e questo potrebbe essere una potenzialità molto forte, perché appunto la cultura si diffonde di più, dall'alto in basso e anche in maniera omogenea, però dall'altra parte potrebbe essere un pericolo, perché senza un metodo d'analisi della realtà è difficile essere autorevoli. Autorevo tu parli di coniugare rigore con la capacità di non fermarsi alla superficie, è una ricetta? Sì, nel senso che siamo tutti quanti vittime, chi più chi meno, di un immaginario che si è formato in questi anni, e questo immaginario spesso è un immaginario fasullo e ci ingombra la mente, ci porta a ragionare in modo fallace, e dunque secondo me uno scrittore più che preoccuparsi di cosa dire, è di preoccuparsi di come dire le cose, e quindi con che metodo, con che approccio, attraverso quali fonti organizza il suo pensiero e dà informazione.